Continua il ritiro del Biceglie che conclude il suo secondo test stagionale battendo i friulani del Charlins Muzane, formazione di Muzana del Turniano neopromossa in D. Mister Zavettieri che ha potuto testare anche il paraguaiano Lugo ed ancora alternatisi nel corso del match in cui Giron, Gabrielloni nel primo tempo e Partipilo nella ripresa hanno consegnato la vittoria ai pugliesi che ha mostrato miglioramenti evidenti sul piano atletico e che soprattutto gioiscono per l'innesto di un nuovo atleta italo-montenegrino. Trattasi del Molfettese Idris Toskic, centrocampista che tra Bari e Chievo ha cominciato a muovere i primi passi prima dell'esperienza al Monza in Lega Pro. Edaldezic Tuzzi, formazione della Perva Crnogorsa Futbalska, equivalente della nostra Serie A, restando in Lega Pro. Nella vicina Andrea è da segnalare l'innesto del giovanissimo attaccante crasse 95 Michele Scaringella con lo seto. A Gravina nella stagione 2014-2015, anno in cui i due conquistarono la promozione in eccellenza con i Murgiani per l'attaccante Coratino, un'opportunità che arriva dopo una stagione in cui Scaringella con 16 reti ha ottenuto la promozione in eccellenza con il Corato Calcio, team della sua città nativa.